Consigliere Di Gregorio, pace fatta col PD? Con Melucci, chiedo scusa. Io e il mio partito. E con Melucci? Melucci è il mio sindaco, non è quella la giunta che mi rappresenta. No, 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 non scappi consigliere. È una semplice intervista. Ora tutto d'accordo col PD? Tutto perfetto, andiamo avanti per 5 anni. Lei era stato duro col sindaco, ora invece l'ho vista ammorbidito. All'aggiunta, ribadisco la mia posizione, i baresi a casa loro. Però vota secondo il PD e secondo Melucci. Secondo la mia coscienza. Si vuole raddolcire ora. La mia coscienza. La mia posizione è chiara, i baresi a casa loro. Punto. Ma per mandare i baresi a casa loro bisogna mandare il sindaco a casa sua. Vedremo nel futuro.